in anteprima esclusiva oggi abbiamo qua la nuova e go cross l'estetica della nuova e go cross è completamente rinnovata rispetto alla generazione precedente diventa più alta ed aumenta anche l'altezza da terra l'aspetto della nuova e go cross è quello di un vero urban crossover lo stile cross dell'auto è rafforzato dai cerchi che si possono avere fino a 18 pollici mentre il posteriore ricorda tanto la precedente go la finitura bit on crea uno stile inedito di vero carattere troviamo di serie il nuovo sto iota safety sense 2.5 una vera evoluzione in termini di sicurezza per il segmento a e comprende il cui scontro è adattivo il riconoscimento del cambio di carreggiata il riconoscimento pedoni e ciclisti ai go cross non rinuncia a nulla in termini di connettività e multimedia introducendo il toyota smart connet il nuovo e go cross potrei averla col cambio manuale o col nuovo cambio scvt grazie ai maggiori spazi interni migliora abitabilità e visibilità sulla versione aerea abbiamo un nuovo tetto intera apribile elettricamente di qualità premium al go cross è già ordinabile venite a scoprire tutti i dettagli nelle concessionarie gt moto del gruppo g a genova chiavari amalitaggia e savona